Sulla panchina per l'ex Borriello, Bonucci dal primo minuto naturalmente con i due compagni di sempre, Cellini e Barzagli. Non c'è Del Piero che partirà dalla panchina, ma non c'è neanche Totti, anche lui partirà dalla panchina. Arturo, 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 gli acerati! Na 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 na! Arturo Vidal, e vai! Questa è la Roma! Ma cos'è? Questa è la Roma! 8 minuti, due pere, tutte le noti Vidal, Londra Moretti, Londra, Moretti... Ed è tre! 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 Ed è arrivato! È arrivato! È arrivato! Vola! Vola! Dedicato! Vola! Vola! A casa! Quattro! A casa! Guarda che alla Roma! Quattro! Non sai quante squadre! Guarda che alla Roma non resta dalla casa! La Roma! In birreria! In birreria! In birreria! In birreria! In birreria! In birreria! Marcello! Il momento sta per finire la partita! È finita! È finita! È finita! È finita! Il più grande spettacolo dopo il rispetto! Big Bang è rinviato adesso a mercoledì! Marcello, posso? Ma l'ho rubato pure qui! Imbattuta in Italia e in Europa! Ma che cazzo! E prima ormai con tre più un punto! Perché abbiamo vinto tutti gli scari! E non li abbiamo mai persi in scelta! Imbattibili! Imbattibili della... Imbattibili della... Iuuuut! 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 Grazie a tutti.